E' un bufale e ceci che vinnerò ora per voi sia. Bufale e ceci? E che è una pizza? Commissario. La vittima? Una picciotta di 27 anni che travagliava qui all'archivio. Ma che te era come una sorella per me. Lei dove era ieri tra le 12 e le 2? Non sono un assassino. Quando vi siete conosciuti? Due anni fa. Minchia degli sbirri di razza come a voi risolveranno il caso nel giro di poche ore. La domanda a cui bisogna rispondere è se il delitto è stato d'impeto o premeditato. Un precedente c'è, lontano assai, ma c'è. Però dimmelo, che facciamo? Indovinelli, falsi. Noi ci siamo capiti, è vero. Lei vuole che io le snoccioli tutte le prove che abbiamo? Oppure vuole collaborare? Il che le consentirebbe di non aggravare ulteriormente la sua situazione. Adesso le racconto io come secondo me potrebbe essere andata. le fame, ho senso quello che è stato accettato. Adesso il Lucky Meeting. Grazie a tutti.